È un IHF che lotta, mostra segnali di miglioramento, ma che si deve arrendere per l'ennesima volta in questa stagione. Al palazzetto dello sport di Frosinone, la Foppa Pedretti Bergamo passa per 3-7-1. Una gara già sulla carta dal pronostico chiuso, anche se le giociare in campo non hanno sfigurato al cospetto di una delle forze principali del campionato. Nei primi due set le Lombarde mettono a referto percentuali d'attacco elevatissime e rintuzzano benissimo gli attacchi di Gioia e compagne. Nel primo parziale Bergamo parte subito in avanti sul 3-4 per le ospiti, c'è il primo break con la Foppa Pedretti che vola sul 4-10. Martinez è costretto a chiamare due time out, ma l'IHF non riesce a rientrare nel set. Rosicchia solamente qualche punto, ma il parziale va alle Lombarde per 25-18. L'IHF riesce a mettere anche il naso in avanti sull'8-7, messo all'un'illusione perché Bergamo scappa di nuovo sull'9-12. L'IHF però si rimette alla caccia delle avversarie sul 15-16. La Foppa Pedretti mette a segno un altro break, è il 20-15 con un muro sulla Gioli. Le giociare provano a scuotersi, ma non riescono a recuperare più di tanto e anche il secondo set va a Bergamo per 25-21. Anche il terzo parziale sembra avviarsi nelle mani della Foppa Pedretti che riesce ad allungare subito sul 14-19. Le ragazze di Martinez però rimontano e impattano sul 20 pari. È un fine set equilibrato ed è la Kidder a regalare il 25-23 all'IHF. Nel quarto set la Foppa Pedretti scappa subito sul 7-3. Il parziale sembra ormai segnato. Le Bergamasche sono in controllo assoluto, non sbagliano quasi nulla e chiudono sul 25-16 portandosi a casa i tre punti contro un'IHF comunque in crescita anche se c'è ancora tanto da migliorare. Grazie per la visione!